La verità non sento l'esigenza di sapere tutto, diciamo, della vita privata dei politici, salvo se c'entra con il loro operato pubblico. Ma, diciamo, lei diceva prima, non è che porti voti, no? Il fatto di ostentare la fede. Noi abbiamo avuto la democrazia... Non lo faccio per quello, sicuramente. L'abbiamo avuto l'ADC che ha governato per 50 anni questo paese ed erano tutti democrazia cristiana. E lì c'era più pudore o non... Cos'è che è cambiato? Stai chiedendo a me, Lili? Ma è cambiato che, appunto, la democrazia cristiana, che pure era un partito cattolico riconosciuto, che oltre a praticare predicava i valori del cattolicesimo, oggi non c'è più e al suo posto ci sono, invece, forze politiche che usano la religione. Io ho massimo rispetto di Matteo Salvini e della sua ritrovata fede. Quello che vedo, però, è che, appunto, da Fatima, Mergiugori, Radio Maria, questi post, c'è un utilizzo un pochino spregiudicato della religione ed anche una esibizione dei simboli religiosi. Ti voglio ricordare che nella campagna elettorale del 2018 Salvini faceva i comizi esibendo il Rosario e il Vangelo, quindi li esibiva come simboli politici. Ecco, che mi fa pensare, naturalmente, che tutto questo abbia a che fare con una metamorfosi politica. Cioè, Salvini vuole riconvertirsi al, credo, tra virgolette, moderato nella convinzione, così di recuperare una quota di voti al centro, visto che a destra soffri in maniera più massiccia. Ma qua, però, prendete per fessi gli italiani, eh. Gli italiani sono persone concrete, si confrontano col mondo del lavoro, con i problemi dei figli, della scuola, della pensione, della disabilità. Poi uno deve dimostrare di essere cristiano nella vita pratica, quotidiana, quindi difendendo la vita. Non è che gli italiani o i cristiani votino in base a un'esibizione. Semplicemente mi piace testimoniare la mia fede. Altri testimoniano la loro fede in altre religioni, per carità di Dio. Ma certo. Senta, senatore...